parte 2 della challenge io e mio fratello prima abbiamo fatto la parte 1 ciao iniziamo inizio io o grande pronto grande gol nell'angolino super ragazzi hanno detto che ora tocca a mio fratello grande gol ragazzi ha fatto un gran gol mio fratello grande classe per lui grande nell'angolino ragazzi 2 a 1 per il mio fratello